Si può sentire che viene da un'altra cosa. Si può sentire che viene da un'altra cosa. Si, si. Tanto suono che viene di trovare questo perché non è mai da un'altra cosa. Si, concordo. Non che faccia solo questo, ma... Ma dove è parte? Dove è lì? Dove è lì? Dove è lì? Eh, sì, perché questo fa parte della nostra cultura. Se è un altro che... Se lo discutiamo in questo genere, fa parte di voi. Che è molto più grande della Bossa Nova, grazie. Si, perché la Bossa Nova ci ha un bel giro che conosciuto per me. Tu sanno la Bossa Nova, tu sanno la Bossa Nova. E poi subiamo in un dittimo che si approcchiamo un po' di avanzamento, come carne. Ah, è lì? Votre è? Si, io non ho mai molto risposto qua in Europa. Ma... Juve sono stato, io stavo provando a fringarlo. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.